Musica Un pomeriggio ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In primo piano quest'oggi parliamo di reddito di dignità. Il Movimento 5 Stelle fa il punto sulla misura riproposta in Puglia e Giuseppe Conte invia un video messaggio al gruppo consigliare Pentastellato in Puglia. Vediamo. 3.500 domande già pervenute dall'apertura della prima finestra del 5 dicembre. Tre tipi di soggetti che potranno accedere anche al di fuori dell'apertura dei bandi. Donne vittime di violenza, senza tetto e genitori separati. Oltre alla sottomisura per far accedere anche le persone e le famiglie in difficoltà agli eventi culturali. Il Movimento 5 Stelle fa il punto sul reddito di dignità riproposto in Puglia e che quest'anno dovrà agire in un contesto in cui sarà assente il reddito di cittadinanza. Ecco che dunque il reddito sarà al contempo una misura per le politiche attive del lavoro e di sostegno sociale con un valore politico sottolineato anche dal video messaggio inviato in Puglia da Giuseppe Conte. Noi siamo in contotendenza. È un governo che ha smantellato anche il reddito di cittadinanza. Noi invece potenziamo con il Movimento 5 Stelle quelle sono le misure di inclusione. L'auspicio che parte dalla Puglia è che altre regioni possano emulare la misura in modo tale da colmare almeno parzialmente il vuoto lasciato dal taglio del reddito di cittadinanza. Del resto, stando ai numeri forniti dal gruppo consigliare dei pentastellati, vi sarebbe un netto incremento del numero delle persone sotto la soglia di povertà assoluta che nella rilevazione del 2022 parla dell'8,3% sul totale nazionale. Va ad abbracciare e a permettere opportunità a chi è escluso dalle misure nazionali. Quindi mentre il governo cancella, sminuisce e in qualche modo in maniera scellerata abbandona i poveri, la Regione Puglia scommette nuovamente sul reddito di dignità. Quando in una famiglia vengono a mancare le risorse economiche e quindi il bilancio viene a ridursi, la prima spesa che viene assolutamente tagliata è quella che afferisce alla cultura. Quindi attraverso il reddito, questa nuova forma del reddito, noi abbiamo dato la possibilità alle famiglie pugliesi di poter comunque avere la possibilità di accedere a quella che è l'offerta culturale. E parliamo ora invece adesso di amministrative. Gianfranco Todaro, segretario cittadino del Partito Democratico, è intervenuto questa mattina all'interno del nostro Buongiorno Bari sulla scelta del candidato sindaco per il centro-sinistra e sentiremo si è concentrato sul rapporto con il Movimento 5 Stelle. Al netto del politichese è evidente che stiamo dialogando con delle forze dove ci sono comunque delle questioni anche a livello nazionale, se non a livello regionale. Vanno chiariti anche qui determinati passaggi, è inutile girarci intorno con i 5 Stelle e dopodiché l'auspicio è che insieme ai 5 Stelle e a tutte le altre forze della coalizione, penso ai socialdemocratici, penso ad Azione, penso alle civiche, spero di non inventarne altri, si individui una figura che finalmente tenga unita la coalizione. Michele Laforgia ha ripresentato la sua candidatura, ha detto perché non io? E si è dato la risposta, perché perché non io non è una buona domanda, perché altrimenti i nostri candidati dovrebbero rilanciare con perché non io. C'erano i famosi tre nomi, la rosa iniziale, Pietro Petruzzelli, Paola Romano, Marco Lacarra, questi tre nomi rimangono, anzi come diciamo noi giornalisticamente, sono ormai bruciati o si possono ancora recuperare? Sono stati congelati perché inevitabilmente avrebbero portato alla proposizione delle primarie. Se questo corteggiamento non porta al fidanzamento anche su Bari, cioè a Roma pare che siamo fidanzati, però a Bari non ci vogliamo fidanzare. Ok, se dovesse andare tutto per il verso giusto, con la coalizione e quindi di 5 Stelle e tutti gli altri individuiamo il dono. Ma se questo corteggiamento non vedrà i suoi frutti, noi non dobbiamo andare alla ricerca di altre figure perché ce ne abbiamo. E per tutti gli aggiornamenti dal nostro sito, telebari.it ci colleghiamo quest'oggi con Tiziano Tridente. Ciao Tiziano, ben trovato. Sì, eccoci Serena in primo piano sul nostro sito, la cronaca con i due carabinieri rimasti feriti per fortuna in modo lieve nel corso di un inseguimento avvenuto nella serata di ieri a Giovinazzo. I militari medicati all'ospedale San Paolo sono stati dimessi con una proniosi di 5 giorni, i due, secondo quanto ricostruito intercettata, un Audi sospetta avrebbero provato ad avvicinare l'auto per sottrarsi al controllo, quindi le persone a bordo hanno dato vita a un inseguimento terminato con la gazzella dei carabinieri finita su un'isola sparti traffico. Cambiamo argomento e ci occupiamo di una storia, a lieto fine quella del signor Vito, 49enne di Carbonara, salvo grazie a un defibrillatore indossabile. Il dispositivo medico, una volta rilevato l'improvviso arresto cardiaco, ha rilasciato una scarica elettrica che ha permesso al cuore dell'uomo di riprendere a battere a chi era con lui, di chiamare il 118, trasportato, cosciente al policlinico, quindi il paziente è stato poi sottoposto a intervento chirurgico per l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo che continua a proteggerlo dalle frequenze cardiache pericolose di cui soffre. Chiudiamo con l'iniziativa dell'azienda Andriani, SPA Benefiti di Gravina, che a partire da gennaio ha deciso di aumentare lo stipendio dei suoi dipendenti, che potranno così affrontare con maggiore agio, spiegano dall'azienda l'inflazione e il carovita. L'incremento retribuito sarà percepito su base mensile e in modo permanente, sarà del 7,5% e riguarderà tutto il personale con retribuzione annuale inferiore ai 60.000 euro. A te. Grazie a Tiziano Tridento, noi invece adesso parliamo di ritardi sui treni. Il consigliere della Lega Fabio Romito lancia l'allarme, a causare disservizi sarebbe il passaggio sui binari degli ospiti del cara di Palese. Più di 10.000 minuti di ritardo accumulati, oltre 350 convogli coinvolti nel 2023, avrebbero una matrice comune i ritardi accumulati da molti treni regionali e non in Puglia negli ultimi mesi. I rallentamenti avverrebbero in buona parte nella zona del cara di Palese, dove gli ospiti della struttura avrebbero ripreso a scavalcare le mura attraversando i binari per raggiungere le fermate Amtab all'imbocco della tangenziale. Un problema già affrontato anni fa e che sarebbe legato soprattutto agli orari di accesso alla struttura. A lanciare l'allarme è stato il consigliere della Lega Fabio Romito, che ha già avviato un'interlocuzione con RFI, che a sua volta avrebbe coinvolto nella questione anche la prefettura. Ritardi, molti, cancellazioni, anche molte negli ultimi giorni, questo è accaduto spessissimo, perché abbiamo avuto notizie sia da RFI che da tanti passeggeri che prendono abitualmente il treno, purtroppo sul tratto Bari Nord gli ospiti del cara hanno ripreso a scavalcare la recinzione del cara stesso e a invadere i binari. Questo ovviamente causa dei rallentamenti ai treni, che sono costretti a viaggiare a 37-35 km orari, o vere e proprie cancellazioni quando il treno è costretto a fermarsi. Io ringrazio RFI nella persona dell'amministratore e delle ramificazioni territoriali di RFI per la disponibilità e la prontezza con cui si sono attivati per segnalare alla prefettura e alle forze dell'ordine questo problema. Sono certo che anche attraverso l'intervento del ministro dei Trasporti Salvini noi riusciremo a mettere fine definitivamente a questo problema atavico. E sopra il luogo questa mattina all'interno del carcere di Bari del consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, e a Michele Piccaro sentiamo cosa è emerso. La mia visita ha la finalità di ringraziare il lodevole impegno delle agenti di Polizia Penitenziaria e verificare anche la situazione dei detenuti se gli stessi vengono posti nelle migliori condizioni anche sotto l'aspetto sanitario. Di questo io vorrei far presente che ad agosto ho chiesto la convocazione dell'osservatorio regionale sulla sanità penitenziaria a livello regionale e non ho ancora avuto risposta. Oggi pomeriggio sarò dai vertici della ASL per avere contezza del perché questo osservatorio che si riunisce in tutte le altre regioni è codificato e ha una finalità di salvaguardare la salute e l'interesse dei detenuti da una parte e l'attività dell'amministrazione carceraria dall'altra. Solo in Regione Puglia non si riunisce. Parliamo ora invece, cambiamo completamente argomento, di emergenza abitativa. Ha cominciato questa mattina lo sciopero della fame ma il suo non è solo un fatto personale ma un momento di lotta collettiva. E allora ascoltiamoci questa intervista ad Anna Linda Lupis. Io sono in emergenza abitativa e sto aspettando ormai da mesi una soluzione. Quindi questo sciopero della fame inizia come un percorso di lotta personale che però riguarda l'intero movimento. Ci sono decine e decine di famiglie che sono con noi nel movimento. Abbiamo fatto una manifestazione, un presidio il 12, ricevuti sia dal funzionario del Welfare che dal capo di gabinetto Vito Leccese. Abbiamo portato le nostre istanze, le nostre ragioni e quindi questo sciopero della fame rimarca ancora di più quelle che sono le posizioni non solo le mie ma quelle dell'intero movimento di lotta per la casa. Questa è ovviamente una questione complessa però nell'emergenza quali sono i primi atti concreti che chiedete all'amministrazione? Allora sono le stesse cose che abbiamo riferito a Vito Leccese, il 12. e sono innanzitutto, visto che l'assessore all'ERP, la coppola aveva già dichiarato attraverso i microfoni anche della vostra emittente che siamo, che eravamo, era il mese di luglio in emergenza abitativa e all'epoca c'erano 400 famiglie, attualmente sono più di 500. Si poteva già allora provvedere a contattare il prefetto, visto che gli sfratti sono considerati un problema purtroppo di ordine pubblico, è provvedere affinché il prefetto, e questo noi continuiamo a ribadire, primo punto, il prefetto con un atto formale possa bloccare gli sfratti consentendo nel tempo una diluizione dei procedimenti e delle esecuzioni affinché le famiglie possano passare da casa in casa, anziché da casa in strada. E andiamo avanti, è stato inaugurato a Bari il villaggio della prevenzione in Piazza Libertà da oggi fino al 16 in dicembre, in programma visite specialistiche per prevenire le malattie oncologiche, vediamo. La pioggia non ferma la prevenzione, è stato inaugurato il villaggio promosso dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori in Piazza Libertà a Bari da oggi fino al 16 dicembre, sono in programma visite specialistiche, screening ed esami diagnostici grazie alla collaborazione di sanitari e specialisti che si mettono a disposizione della comunità per un atto di solidarietà umana. Noi in via del tutto eccezionale, grazie anche al contributo della sede nazionale della Lilt, siamo riusciti a garantire questa tre giorni di visite specialistiche gratuite, di mammografie gratuite, ecografie, quindi tutto quello che può servire alla vigilia di Natale a prevenire, prevenire è un diritto, prevenire anche un dovere morale. Fin dalle prime ore del mattino decine di donne si sono sottoposte ad esami specialistici, un'occasione unica offerta da Lilt per promuovere la cultura della prevenzione. Questa è una bella opportunità di collaborazione anche per valorizzare quello che quotidianamente la Lilt col comune realizza proprio sulla città di Bari. Inoltre saranno diverse le donne che da ogni quartiere verranno accompagnate qui, molte delle quali anche per la prima volta nella loro visita di mammografia e di screening, perciò un'opportunità proprio per promuovere la cultura della prevenzione. E torna un albero differente, iniziativa lanciata da Amiupuglia. Quattro alberi di Natale sono stati posizionati per le strade del quarto municipio e saranno addobbati con oggetti riciclati realizzati dagli studenti. Quattro alberi di Natale decorati con oggetti di riciclo realizzati dagli studenti. Torna per il terzo anno consecutivo un albero differente, iniziativa lanciata da Amiupuglia per diffondere la cultura e il rispetto dell'ambiente. Bottiglie di plastica, vecchi cd e barattolini di vetro sono stati trasformati dai piccoli studenti in veri e propri addobbi natalizi e saranno così posizionati sugli alberi donati da Amiupuglia. Oggi il presidente di Amiupuglia, Paolo Pate, ha incontrato i ragazzi delle scuole D'Alessio e Diaz. Queste iniziative ci consentono per l'appunto di accompagnare la città anche in questo cambiamento, un cambiamento culturale che va sempre più, come detto, verso la cultura del riciclo e del riutilizzo e in questo caso stiamo raccogliendo nelle varie scuole che hanno aderito all'iniziativa le decorazioni che saranno poi messe proprio sugli aboli, sui quattro abeti che noi abbiamo donato. L'iniziativa quest'anno assume un significato particolare. Nelle prossime settimane il quarto municipio sarà infatti interessato dall'estensione del servizio di raccolta porta a porta. Proprio per preparare i cittadini al cambio di modalità, Amiupuglia sta consegnando i kit contenenti pattumelle e buste. È bello sapere che tutte le piazze più importanti dei quartieri del municipio 4 vedranno la presenza di alberi donati da Amiupuglia e adornati con addobbi realizzati dai bambini, riutilizzando i materiali e imparando sempre più a differenziarli. E ci spostiamo a Taranto. Il sindaco Melucci annuncia di non avere nessuna intenzione di dimettersi dalla sua carica. Vediamo. Noi non intendiamo, ripeto, per senso di responsabilità e per il bene della città, abbandonare la città e non intendiamo dare alibi a nessuno. Ci piacerebbe però maggiore chiarezza dai partiti. Nel corso di una conferenza stampa indetta per questa mattina a Palazzo di Città con tono sobrio e tranquillo il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci dipana ogni dubbio sulla sua permanenza a capo dell'amministrazione comunale affermando che non è sua intenzione consegnare la città ad un commissario prefettizio e che al più presto avvierà una nuova verifica con la maggioranza e che è pronto all'azzeramento della giunta per riproporne una nuova. Inoltre, rivolgendosi al senatore pentastellato Mario Turco, col quale è nata della credine, ha dichiarato di essere pronto a dialogare con lui e che se volesse potrebbe anche fare il vice sindaco ed occuparsi dei giochi del Mediterraneo. Conclude dichiarando che se qualcuno pensava che mollasse l'incarico resterà deluso e che continuerà per senso di responsabilità a guidare la città con serietà accompagnato da chi ha interessi solo per la città e non per le beghe di partito. Io seriamente posso continuare a fare il sindaco di questa città con chi ci sta, con chi vuole mettersi in discussione. Non posso pagare pegno solo perché sono più bravo di qualche di un altro, solo perché lavoro più di qualche di un altro, solo perché non voglio stare in un partito. Basta, è disumano. Ancora una volta però io, i miei collaboratori, credo i miei consiglieri, li ho sentiti ieri, insomma erano tutti molto tranquilli. Siamo a disposizione della città, di tutti i partiti, non vogliamo screditare il loro ruolo. Ci serve però chiarezza. Se uno viene al tavolo della vecchia coalizione, visto che la chiamano così, che non è mai cambiata, l'abbiamo solo un po' allargata di comune accordo, con quel programma noi siamo, come dire, aperti a qualunque ragionamento, a qualunque rettifica. E andiamo ora invece a Foggia dove questa mattina si è tenuto il primo consiglio comunale con la nuova giunta nella squadra, nella nuova squadra di governo, anche Giuseppe Galasso. Si è messo ufficialmente in moto l'esecutivo targato Maria Aida Episcopo. La nuova sindaca di Foggia ha presieduto stamane il primo consiglio comunale con il giuramento dal primo cittadino e la presentazione della squadra di governo. Tante le novità, dalla grillina Lucia Aprile all'ambiente alla giovanissima Alice Amatore come assessore alla cultura, passando per l'atteso Giuseppe Galasso, che dopo nove anni apprezzati nella giunta De Caro a Bari, andrà a ricopire l'assessorato all'urbanistica e lavori pubblici di Foggia. Sarà un'esperienza intanto impegnativa. Foggia è reduce, come tutti ben sanno, da due anni di commissariamento, quindi ci sarà sicuramente una sete da parte della città di interfacciarsi con un'amministrazione con i pieni poteri che va al di là anche della gestione, diciamo, ordinaria. E quindi sarà un impegno importante, un impegno con una delega anche estesa che riguarda ampi spazi e settori della città. I lavori pubblici e l'urbanistica, come tutti ben sanno, sono un motore portante dell'attività amministrativa. Non sono mancati momenti di tensione in aula con il consigliere Giuseppe Mainiero che ha risollevato la questione di una presunta incompatibilità della sindaca episcopo per via del suo incarico dirigenziale all'ufficio scolastico regionale per la Puglia. Ripianate invece le divergenze con i grillini, che non avevano gradito alcuni nomi nella giunta, poi risolte con l'ultima riunione di ieri sera del campo largo progressista, prima del nuovo Consiglio Comunale. E andiamo infine a Lecce. Un latitante arrestato mentre faceva la spesa dovrà ora scontare 20 anni. Vediamo il servizio. La Polizia di Stato ha catturato a Torvajanica, frazione del Comune di Pomezia, un pregiudicato leccese di 71 anni, destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per oltre 20 anni di reclusione. Il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce riguarda reati in tema di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed armi. Il personale della squadra mobile di Lecce della Sisco di Lecce con il supporto operativo della Sisco di Roma ha dato esecuzione al provvedimento restrittivo nei confronti dell'uomo che si era reso irreperibile dal mese di novembre 2023, sottraendosi alla cattura. Grazie alle laboriosi indagini svolti dagli uomini della Polizia di Stato, l'uomo è stato individuato nel comune laziale mentre si trovava all'interno di un supermercato a far la spesa, immediatamente bloccato e stato tratto in arresto. L'uomo è stato un personaggio di spicco della criminalità organizzata salentina nel primo decennio degli anni 2000, essendo stato a capo del clan Nisi Briganti affiliato alla Sacra Corona Unita. Già il 12 maggio 2012, il personale della squadra mobile di Lecce, unitamente al personale della squadra mobile di Roma, lo aveva tratto in arresto e in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per reati di associazione mafiosa e detenzione di armi. Le attività sono state coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. E noi siamo in chiusura e come di consueto vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it, radiobari.net E' tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e a più tardi con l'informazione di Telebari. Un saluto ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì il contesto sull'Italia vedrà ancora qualche nota di instabilità all'estremo sud per effetto della perturbazione giunta nei giorni scorsi che si allontana verso i Balcani ma che appunto determina ancora qualche disturbo associato anche a un calo delle temperature per l'arrivo di correnti più fredde dalla Scandinavia. Osserviamo quindi la mappa della nuvolosità che vede un contesto per lo più soleggiato al nord e sui versanti tirrenici mentre una maggiore presenza nuvolosa interessa al sud del Medio Basso Adriatico qui con l'occasione per qualche pioggia o acquazzone nonché anche nevicate. Infatti osservando lo zoom delle precipitazioni notiamo come ci sarà modo per avere anche delle nevicate sull'Appennino specie nella seconda parte del giorno a quote anche inferiori ai 1000 metri poi anche in vista di sabato. Vediamo quindi il tempo che ci aspetta sull'Italia avremo una giornata per lo più soleggiata al nord ma anche sui versanti tirrenici seppur con l'incognita per qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Val Padana e il successivo diladamento mentre sul Medio Basso Adriatico e al sud ci sarà modo per avere una maggiore presenza nuvolosa con qualche acquazzone o temporale a carattere sparso con la possibilità come dicevo per nevicate sull'Appennino entro sera anche sotto i 1000 metri sul comparto centro-meridionale e temperature in calo. Per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo.